Musica Oggi nasce Casa Birrozza che unisce la Birrozza che è un brand creato da me cinque anni fa e la Puccia Salentina quindi abbiamo fatto questo matrimonio e sarà sicuramente un mix vincente Musica Qui troveranno la genuinità, la semplicità tutto ciò che è la tradizione salentina la gastronomia salentina che proviene dalle famiglie, dalle nonne dalle case delle nonne infatti noi abbiamo ripreso molte ricette proprio da lì siamo partiti dalle case delle nostre mamme e delle nostre nonne proprio per dare la sensazione per chi viene qua di sentirsi a casa di sentirsi a casa La casa Birrozza è specializzata nella produzione di pucce sia con impassi tradizionali che con impassi alternativi, ad esempio la curcuma, il granuarso, alghe eccetera e saranno farcite con ingredienti a chilometro zero, quindi con ortaggi e verdure dell'azienda agricola di famiglia, con i formaggi del territorio, con i salumi, capocollo di Martina Fanca ad esempio, presidio slow food. Io sono salentino e come tutti i salentini, noi siamo particolarmente fieri ed orgogliosi per l'enorme ricchezza dei prodotti gastronomici. Ecco, la mia azienda si inserisce proprio all'interno di questo contesto, la valorizzazione delle produzioni tipiche e in questo caso della birrozza, della birra artigianale. Sì, Carlo è un imprenditore brillante, ha iniziato con la birra, adesso conclude questo percorso con questa pucceria. merita il successo, insomma, un grande successo. Lui mette insieme tradizione, cultura, prodotti tipici, linguaggio anche, si vede dal locale che è stato curato, con tutti i riferimenti alla cultura salentina, quindi un grande in bocca al lupo questa sua attività. iscriviti al nostro canale. Grazie.